non so se è partita la diretta oppure no voglio salutare tutte le persone che mi seguono voglio salutare tutte le persone che stanno seguendo i miei eventi i miei canali di youtube Angeli Custode MKUltra Italia l'altro mio canale Emiliano Babilonia e voglio ringraziare tutte le persone che mi sono stata accanto in questi giorni e che hanno praticamente preso le mie difese quando in anomali gruppi di anomale vittime del controllo mentale hanno parlato male di me mi hanno riferito e mi hanno mandato addirittura screenshot delle persone che hanno parlato male di me che hanno commentato cose su di me ma tanto sappiamo perfettamente bene che sono i soliti manipolati mentali che vengono a contrastare praticamente tutto quello che io faccio per aiutare le vittime nel controllo mentale perché molte vittime purtroppo loro si credono che aprendo una loro pagina su facebook o aprendo un loro blog e ovviamente scrivendo delle cose surreali o disinformando le reali vittime del controllo mentale dicendo che loro sono impiantati da anomali microchip in testa non usano i microchip dal 1970 noi parliamo di microchip neurali che servono per il controllo della mente o il controllo delle frequenze cerebrali di semplici rifid addirittura mi stanno contattando delle persone che si sono iscritte ai miei canali agli miei account di facebook che vengono contattate queste persone da anomale e presunte vittime del controllo mentale che dicono a queste persone se sono delle vittime che se subiscono attacchi con manipolazioni chiedendo anche molte volte le loro generalità private e poi gli propongono di iscriversi ad anomale associazioni ovviamente che devono pagare per iscriversi e poi gli propongono di fare delle anomale denunce che ovviamente denunciano zingari denunciano squali denunciano i vicini di casa tutte denunce che non servono a niente perché sono denunce che fanno sembrare le vittime persone malate di mente io infatti ho sempre detto la denuncia che noi dobbiamo fare deve essere una denuncia tecnica e plausibile e deve denunciare la denuncia collettiva tecnologie non persone perché le persone possono essere state a sua volta manipolate del controllo mentale per fare determinati gesti o per fare determinate cose che possono creare delle anomale deduzioni da parte delle vittime che vengono attaccate con queste armi con queste frequenze che queste persone sono i stalk che li attaccano con queste tecnologie ma in realtà non è così ve lo dico di esperienza perché seguo oltre 500 casi di persone mi scrivono email da tutte le parti del mondo e la maggior parte di queste persone tutti vengono manipolati attraverso un programma di controllo mentale che fa credere che sono i vicini di casa ma perché questo? perché le voci le sentono attraverso i muri infatti ho creato una cuffia che è in grado di registrare direttamente dal condotto utitivo tutto ciò che sono delle frequenze o voci o parole o addirittura suoni questa cuffia è un mio progetto ci ho messo un anno per progettarla questa cuffia e sto facendo ultimamente dei test per attestare tutte le varie frequenze le varie analisi i programmi di registrazione che utilizzerò per far sì di captare solo le frequenze che vengono praticamente ascoltate dalla persona che viene attaccata con queste armi e con queste tecnologie la cuffia ovviamente è una cuffia particolare adesso è inutile che vi dico il nome della cuffia cercherò di portarla alla nuova conferenza che faremo che si chiama complotto di stato dove si parlerà proprio del coronavirus vaccini controllo mentale 5G e la strage di ustica per farvi capire come determinate alte cariche dello stato fanno sparire prove schiaccianti sull'avvenimento della strage di ustica parleranno anche alcune persone importanti di tutto quello che c'è dietro l'immigrazione clandestina si parlerà anche del covid perché sta ripartendo la pandemia perché ovviamente queste sono cose importanti attuali che devono essere dette all'interno di questa conferenza che sto preparando da un po' di tempo poi la mattina della conferenza faremo una riunione con i target individuals che saranno presenti nella sala darò delle delucitazioni delle delucitazioni tecniche e come voglio portare avanti questa denuncia collettiva in più vi dico una cosa molto importante se vi contattano delle persone e vi dicono che collaborano con me e che gli dovete dare dei soldi non date soldi a queste persone perché io non chiedo soldi o non vado da altre persone a dire andate a chiedere soldi alle vittime o andate a chiedere soldi ad altre persone se volete fare una donazione volontaria quando venite alla conferenza venite magari da me mettete in una busta voglio fare una donazione volontaria per contribuire ad acquistare la telecamera termica l'analizzatore di spettro portatile la cabbia di faradai con vari tipi di schermature e vari tipi di sistemi non mi disturbate mentre sto facendo la diretta non cominciate a contattarmi se no vi blocco direttamente perché ogni volta che faccio una diretta le persone cominciano a scrivermi in continuazione un'altra cosa molto importante che voglio dire alle varie vittime ci sono delle persone che sono dei manipolatori e stalker che stanno entrando all'interno dei miei account ovviamente non con la password entrano dentro gli account con nomi falsi con account falsi e fanno credere che loro sono delle vittime allora mi chiedono l'amicizia io accetto la loro amicizia e dopo loro che cosa fanno vanno a cercare praticamente tutte le persone che si sono iscritte ai miei canali o tutte le persone che mi hanno dato praticamente l'amicizia poi che cosa fanno li contattano successivamente dopo un po' di tempo li contattano e gli chiedono se sono delle vittime se loro gli dicono si sono anche io una vittima gli propongono di entrare in un'anomala associazione ovviamente che bisogna pagare e poi gli propongono di cacciare dei soldi per un'anomala denuncia collettiva io non chiedo soldi io non non do alla possibilità alle persone di interferire con la privacy delle vittime perché se le vittime del controllo mentale i target individuals mi dicono voglio apparire non ho nessun problema io li faccio apparire nei miei canali nelle interviste nelle dirette sul palco quando faremo la conferenza ma se le vittime mi chiedono io non voglio divulgare che sono una vittima del controllo mentale io non divulgo niente della vittima infatti se vedete nelle interviste testimonianza che io pubblico non dico mai il nome della vittima perché prima bisogna tutelare la vittima secondo io non la faccio vedere la vittima faccio una registrazione audio che poi pubblico sui miei canali al limite possiamo dire la regione e faccio in modo che quando la vittima fa l'intervista testimonianza di non fare uscire mai nomi luoghi opposti taglio sempre la parte che magari può sfuggire o il nome di una persona che può sfuggire perché per tutelare sia la vittima alla privacy di quello che ovviamente sta subendo e tutelare anche le persone che stanno intorno alla vittima perché se la vittima viene manipolata e gli fanno credere è il vicino di casa e la vittima comincia a dire nome e cognome del vicino e comincia a dire cose strane il vicino il vicino potrebbe ascoltare la intervista testimonianza e potrebbe fare una controdenuncia allora io non voglio che succeda questo perché devo tutelare la vittima che viene manipolata con questo sistema perché le stesse manipolazioni me le hanno fatte anche a me mi facevano credere che erano vicini di casa che erano quelli di sopra che erano quelli di sotto fidatevi che non sono i vicini di casa sono simulazioni di voci ridigitalizzate al computer e mi fanno credere che sono loro ma in realtà non sono loro me mi facevano credere che al piano di sopra c'era una donna anziana che aveva 91 anni e tutte le sere sbatteva le cose muoveva muoveva i mobili si spostava in continuazione una sera mi sono messo davanti alla porta di casa e alle 8 di mattina ho suonato non mi rispondeva nessuno sono andato dalla porta dell'appartamento di fronte c'era una signora e ho detto ma la signora dice ah ma non c'è una settimana che sta all'ospedale dice però io ho le chiavi di casa perché gli vado ad annaffiare i fiori gli ho detto signora può vedere se c'è qualcuno dentro casa sento dei rumori che sbattono dice ma guarda che non c'è nessuno abbiamo aperto la porta della casa della signora siamo andati dentro non c'era nessuno in tutte le stanze non c'era nessuno poi io sono sceso al piano di sotto perché alla signora gli avevo detto sento dei rumori vedo una macchia sul soffitto avevo paura che magari la signora mi dice ma che cavolo dobbiamo entrare a fare che io gli potevo dire se mi attaccano con le armi ad energia diretta ad onde convogliate con attacco infrasonico quindi potevo dire questa alla signora allora gli ho detto che vedevo una macchia e che sentivo una macchia sul soffitto come se era acqua e sentivo delle persone che camminavano dentro casa la signora immediatamente aperta abbiamo visto che dentro casa non c'era nessuno dopo siamo venuti a sapere che la signora era morta da una settimana all'ospedale io riscendo dopo che siamo entrati su casa della signora riscendo dentro casa si risentiva un'altra volta la signora che parlava i mobili che si muovevano o sento i fantasmi non credo proprio o erano i famigerati alieni non credo proprio che erano gli alieni che facevano che parlavano col timbro vocale della signora erano simulazioni radio per farmi discutere con la signora nel piano di sopra così se discutevo con la signora la signora nell'assemblea condominiale diceva ah ma quello è malatute mente ma quello è pazzo ma detto io faccio questo che faccio quest'altro e faccio quest'altro come succede a centinaia di altre vittime del controllo mentale che vengono prese per i fondelli da chi opera attraverso i sistemi radio satellitari attraverso le frequenze del controllo mentale e molte persone ci credono e non hanno capito che il 90% delle vittime credono alle stupidaggini che gli vogliono immettere in testa i manipolatori perché con i lavaggi del cervello continui in stato di ipnosi durante la notte immettono delle frasi e le frasi e le frasi e quelle e quelle e quelle e quelli si svegliano la mattina e cominciano a dire hai visto è quello che mi attacca con quest'arma e quelli non c'entrano proprio niente ve lo dico perché io stavo in mezzo a un prato mi facevano lo stesso giochetto ma chi c'era i vicini di casa in mezzo a un prato sperduto stavo a casa di un parente la casa è piano terra sopra c'è il tetto e si sentivano i vicini di casa che mi attaccavano con le armi solo io stavo in Puglia i vicini di casa stavano a Roma quindi non è possibile che sono i vicini di casa che vi attaccano queste armi e queste tecnologie vi ricordo amici se vi contattano e vi dicono che collaborano con me o che fanno cose con me e vi chiedono di iscrivervi a un'anomala associazione che io non ne faccio parte perché come ben sapete io ho discusso con l'associazione che io collaboravo perché ho chiesto di aprire un conto corrente solo per le vittime del controllo mentale e far arrivare i soldi direttamente a questo conto corrente per aiutare le vittime del controllo mentale per comprare delle attrezzature e poi avevo chiesto di creare un numero SOS solo per le vittime del controllo mentale in modo che mi potevano contattare direttamente e io potevo dare assistenza telefonica purtroppo l'associazione ha ragione le vittime non collaboravano neanche con un'escrizione mensile di 3,30 euro al mese e giustamente il presidente e altre persone dell'associazione hanno detto ma qui se le vittime non si iscrivono e non spendono 3,30 euro al mese cioè noi come facciamo a sostenere le spese del gruppo delle vittime del controllo mentale avevano pienamente ragione allora io gli ho detto creiamo un conto corrente e facciamo influire se faranno delle persone delle donazioni su questo conto corrente per pagare le spese del numero del telefono ci sono state delle incomprensioni tra me e il presidente dell'associazione allora io ho detto quando voi farete questo io ritornerò all'interno dell'associazione e ci siamo divisi ci sono state delle come si chiamano delle iene che come hanno sentito che io mi sono staccato dall'associazione hanno creato delle loro associazioni per influenzare le vittime cioè nel senso per dire hai visto lui sei andato dall'associazione noi abbiamo creato un'associazione venite tutti da noi però la gente dice scusa ma voi che fate per aiutare le vittime del controllo mentale perché tanti mi hanno contattato e mi hanno detto mi hanno chiesto di iscrivermi a questa associazione mi hanno chiesto di dare dei soldi per l'iscrizione mi hanno chiesto di dare dei soldi per fare una denuncia collettiva ma lei sta in mezzo cioè lei collabora a questi ho detto guardate io non collaboro con nessuno adesso ho un mio gruppo di ricerca di Roma e se io farò la denuncia collettiva insieme alle altre persone voi lo saprete tutti perché io farò la denuncia in diretta faremo una rassegna stampa in continuazione daremo notizie da tutte le parti e diremo il giorno che andiamo a portare la denuncia collettiva all'interno del tribunale non facciamo come loro soliti sorti e fuggi poi un'altra cosa io ho chiesto consiglio a vari avvocati io ho chiesto consiglio a vari militari io ho chiesto consiglio a varie persone che sono esperte di determinate tecnologie e di determinati sistemi di controllo e di spionaggio la denuncia viene creata da noi noi io creo la denuncia la faccio vedere agli avvocati gli avvocati io vado poi dai militari e faccio vedere la denuncia che noi abbiamo fatto dopo chiamo le vittime del controllo mentale che collaborano con me facciamo una riunione e io gli dico quello che è stato scritto su questa denuncia nella denuncia si denunceranno solo tecnologie questa ci serve come una ricevuta fiscale come una un foglio ufficiale che dichiara che noi tizio e cagli e sempronio abbiamo portato la denuncia e tutti denunciamo la stessa identica cosa che veniamo attaccati con armi ad energia diretta l'onda convogliata attraverso sistemi di controllo e di espionaggio dei maschi questo è quello che noi dobbiamo denunciare non denunciamo galline non denunciamo gli uccellini non denunciamo i cani che abbagliano non denunciamo i zingari sotto casa non denunciamo i squali non denunciamo tutte le persone che camminano per strada stanno lì per seguirmi a me sono tutti stalker programmati e continuano a denunciare queste stupidaggini e fatta lì a tutte queste persone che hanno denunciato queste stupidaggini a tutte gli hanno fatto il TSO e tutte queste persone non hanno capito perché la manipolazione mentale ha sovrastato le loro capacità cerebrali che loro dicono che sono superiori che hanno capito tutto invece non ci hanno capito niente li attaccano con queste armi e con queste frequenze li buttano giù psicologicamente con attacchi con frequenze infrasoniche e frequenze neuroniche con attacchi anche biofotonici e purtroppo non capendo come funziona l'economia come ce l'ha a dire io ho il chip in testa perché vanno a sentire la storia di quello che sta in alto Italia che ha dichiarato a tutti mi hanno messo un chip in testa e nessuno mi vuole operare l'hanno operato io ho la registrazione che mentre lo stavo intervistando per mettere una registrazione di un'intervista sulla mia radio web che poi lui non ha voluto che veniva messa questa intervista perché ha detto che dopo la gente avrebbe screditato le sue parole e mi avrebbe dato ragione a me che lui non aveva il microchip in testa e che quando l'hanno operato e non era un microchip ma era una cartiragine e lui ha detto addirittura mentre mi hanno operato si vede che se avevo il chip è cascato all'interno del lavandino voi vi immaginate in sala operatoria prende una persona che opera nel cervello e buttano il sangue dentro al lavandino da dove si è mai vista una cosa del genere no? purtroppo queste sono persone che cercano di inventarsi delle storie per avere credibilità e per attirare le persone e io purtroppo non posso dire alle vittime se avete il microchip e mi metto a fare come rinascimento il guru della situazione perché se volevo truffare le vittime per il controllo mentale da mo' che le avrei truffate ero diventato ricco sfondato ero diventato ma siccome io non mi sento di fare questo mi sento di aiutare le vittime e dirgli in faccia come stanno le cose e di incominciare a capire come devono operare come devono denunciare perché se no non vanno avanti infatti le vittime che mi hanno ascoltato mi hanno fatto il TSO le vittime che mi hanno ascoltato piano piano si stanno recuperando le vittime che mi hanno ascoltato non si arrabbiano più quando gli succedono degli avvenimenti le vittime che mi hanno ascoltato non hanno litigato più con le persone che stanno vicino le vittime che mi hanno ascoltato hanno capito che tutto quello che succedeva era tramite la manipolazione non c'entravano niente i parenti e gli amici e hanno incominciato a ridere su tutto quello che gli succedeva e piano 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 si stanno recuperando adesso è come se vedono il mondo reale come un film a realtà virtuale come una sorta di matrix e conoscono una realtà che in realtà è distorta per le persone che gli stanno intorno ma per noi non è così non è distorta questa realtà allora se vi contattano delle persone che vi dicono se è una vittima può entrare in questa associazione noi faremo una denuncia collettiva però ci devi dare i soldi per fare la denuncia collettiva non vi fidate oppure se queste persone vogliono fare questa benedetta denuncia collettiva perché vi chiedono i soldi prima ve li possono chiedere pure dopo fatevi mandare la denuncia la denuncia che loro vogliono fare e vedete su questa denuncia che cosa c'è scritto perché potrebbe essere che degli adescatori dei servizi segreti potrebbero aver arruolato delle presunte vittime che non sono vittime ma sono persone che si sono arruolati a questi gruppi di satanisti a questi gruppi della massoneria deviata militare a questi gruppi dei servizi segreti deviati magari per soldi oppure per chissà che altro e allora loro adescano le vittime per poi metterle in qualche tipo di programma in qualche truma show e adescando le vittime la vittima quando fa una denuncia collettiva che cosa fa gli deve dare tutte le sue generalità nome cognome indirizzo numeri di telefono i documenti per dare la liberatoria all'avvocato per proseguire e se disgraziatamente queste non sono proprio vittime che vi vogliono aiutare ma sono i manipolatori che vogliono le prove incartamenti fogli in mano della vostra esistenza e vi incominciano a chiedere ma a te che cosa ti fanno ma a te che cose hai capito e ti incominciano a raggirare delle parole ti incominciano a prenderti psicologicamente per estorcerti una verità per quale motivo queste persone che dicono di aiutare le vittime non hanno fatto mai una conferenza pubblica e non l'hanno pubblicata da nessuna parte non si sa per quale motivo non fanno interviste di testimonianza e le pubblicano da tutte le parti non si sa per quale motivo non fanno non fanno degli eventi pubblici dove tutti con le telecamere vedono quello che accade all'interno dell'evento pubblico perché questi non lo fanno lo faccio solo io perché perché io non devo nascondere niente tutti possono vedere quello che io faccio gli altri devono nascondere perché gli altri è un film è un truma show cambiano le scene al loro piacimento addirittura si sono inventati che io anni fa mi sono iscritto io a dei gruppi che manco so l'esistenza ma in realtà qualcuno mi ha messo all'interno di questi gruppi non so come magari manipolando i miei account non so per quale motivo e addirittura si sono vantati che io seguivo i loro gruppi quello che loro facevano ma ce ne rendiamo conto io la prima denuncia l'ho portata in tribunale allora sono stato fermato dalla gendarmeria nera il 10 febbraio del 2001 febbraio ad aprile ho portato la prima denuncia del 2001 che rilevavo le frequenze elettromagnetiche radio elettromagnetiche dei miei telefonini sapete che cos'erano? erano i primi esperimenti di controllo della mente a distanza attraverso le radiofrequenze dei telefoni lo stesso sistema che stanno utilizzando associando ogni telefonino ha il nostro cervello e ogni frequenza rimodulata per modificare i nostri parametri cerebrali nel 2001 ho denunciato questo poi dopo totte anni una persona mi ha mandato un film che fanno vedere che praticamente le radiofrequenze dei telefonini manipolano il cervello delle persone li fanno diventare dei zombie degli automi del sistema un'altra cosa David Icke ha fatto un video ultimamente e parla che con le radiofrequenze sia dei telefonini con il radar con anche i satelliti e con tecnologie attraverso radiofrequenze modulari che entrano all'interno della corrente elettrica nazionale io ho le denunce scritte che ho denunciato tutto David Icke nel 2020 parla del controllo mentale attraverso le radiofrequenze elettriche ma io ne parlavo nel 2001 perché a me nessuno mi ha creduto e quando ha parlato David Icke oddio oddio David Icke oddio ha detto questa rilevazione ma perché quando lo dicevo io nel 2001 nessuno mi credeva io perché ho aperto subito il blog Satelli di Spia vittime del controllo onorale satellitare perché le radiofrequenze che ci sparano addosso non ce le possono sparare in tutti i posti dove noi andiamo solo una tecnologia satellitare ci può individuare sparare le frequenze addosso direttamente se noi abbiamo il telefonino dietro le frequenze aumentano se noi stacchiamo la batteria le frequenze diminuiscono è per questo che non vogliono che noi leviamo la batteria nei nostri dispositivi telefonici nel film nel film di Echelon alcuni scienziati che operavano all'interno dell'intelligence del controspionaggio dicono vi facciamo vedere questa nuova tecnologia prendo un numero di telefono telefono e si comincia a sentire dentro la stanza un cane che abbaglia e questa persona ha detto adesso iniziamo con i telefoni di casa tra un po' tutti avranno il telefonino a far vedere il telefonino e noi associeremo ogni numero del telefono a una microspia portatile e con quella microspia portatile potremmo interagire spiare controllare e vedere tutte le persone in tutte le parti del mondo quello è il microchip che loro ci stanno mettendo addosso 24 ore su 24 o mettendo vicino il nostro corpo 24 ore su 24 perché noi siamo associati a un numero del telefono a un contratto telefonico a un telefonino che sta vicino al nostro corpo fatalità all'applicazione del covid che cosa usa le tecnologie che io avevo denunciato gps si collegano attraverso i ponti radio delle celle dei telefonini 2g 3g 4g 5g si collegano attraverso i ponti radio delle reti dati quindi vedono la trigonometria il punto esatto dove noi stiamo e si collegano attraverso i bluetooth e i wifi del nostro telefono così possono vedere una persona che ferma in un punto che si avvicina a un'altra persona e sanno che i wifi e i bluetooth non possono avere un raggio d'azione più di tot metri quindi sanno perfettamente il punto esatto dove noi siamo in quel momento aprono i microfoni e ascoltano tutto quello che noi diciamo aprono le telecamere e vedono tutto quello che accade intorno a noi e possono interfacciare tutta la memoria interna del telefonino e farci quello che loro gli pare perché il nostro telefonino il nostro computer viene associato a un desktop remoto cioè colonano i nostri dispositivi quando noi dormiamo il dispositivo viene spento e loro dal remoto possono manipolare tutto il nostro dispositivo lo sapete perché adesso gli serve il 5G perché prima una fotografia era 1Mb adesso le nuove fotografie sono 15Mb un filmato prima era 300Mb adesso i nuovi filmati fatti in 4K sono 3Gb 4Gb 5Gb a tutti i dati si sono allargati perché più la qualità video più la qualità audio aumenta e più a loro gli serve praticamente di scaricare dati con le vecchie reti ci vuole un quarto d'ora per scaricare un'intera memoria di un telefonino col 5G ci vuole un minuto perché la trasmissione dati è talmente elevata che loro possono scaricare tutto in tempo reale ma lo possono fare anche in un'area geografica dove ci sono 300 400 500 600 1000 persone avete visto le persone come camminano per stare col telefonino qui così la telecamera che fa guarda tutto quello che ci circonda loro possono prendere le immagini che a loro gli interessano si chiama l'occhio di Dio la smart city che viene utilizzata per spiare tutti quelli che ci sono intorno e per spiare a noi che stiamo intorno alle altre persone ma le altre persone sono ignare di quello che succede perché non capiscono il sistema di controllo la manipolazione mentale attraverso il sistema radioipnotico è tanto semplice ma quanto ci vuole per capirlo questo quando io mi sono comprato l'elettroencefalografo e me lo sono messo in testa e andavo un giro a fare l'analisi col tablet col telefonino e andavo da tutte le parti e dicono ma come è possibile che qui mi ipnotizzo qui no qui ho l'allerta qui ho la stanchezza qui ho il ragionamento amplificato e perché succede questo perché succede questo io ho incominciato a studiare i posti ho incominciato a studiare che cosa c'era intorno a questi posti cavi elettrici antenne dei telefonini ponti radio tralicci dell'alta tensione ma com'è possibile frequenze di persone che stavano male dentro casa andava a casa delle vittime frequenze che amplificate da tutte le parti da lì ho cominciato a capire come funziona questa arma amplificano le frequenze della corrente elettrica dei 50 hertz e le altre frequenze armoniche che non vengono dette ma stanno nella corrente elettrica le rimodulano loro e queste frequenze corrispondono a patologie cerebrali ecco come funziona il sistema lo stesso sistema lo fanno con i telefonini amplificano delle frequenze che rimodulano attraverso patologie cerebrali o a frequenze cerebrali ma se te prendi il telefono stacchi la batteria e ti metti in macchina ma non staccano la batteria tutte le altre persone che ti stanno vicino siccome noi rileviamo questo sistema perché siamo estrasensoriali loro sanno che quella modulazione di frequenza immessa in un certo tipo di aria geografica la possiamo percepire solamente noi perché noi siamo elettrosensibili ai campi magnetici delle tecnologie di controllo e di spionaggio del famigerato Truman Show del famigerato occhio di Dio è questo che loro stanno facendo io sto preparando dei filmati alcuni dei cartoni animati dei Simpsons dove fanno vedere dei messaggi che sono stati detti prima del coronavirus prima di determinati avvenimenti mondiali ma come è possibile che in un cartone animato dicono cose strane cose anomale che addirittura dei posti asiatici all'interno di determinati pacchi venivano messe i virus questi pacchi sono stati mandati tutto il mondo la gente ha aperto i pacchi ha aperto i blister di questi pacchi e il virus si è propagato i bambini si sono incominciati ad ammalare si sono incominciati ad ammalare le persone e hanno fatto uscire fuori il vaccino il vaccino a che cosa serve? un gruppo di illuminati dice noi creiamo le pandemie dopo tutto il mondo si mette paura crolla psicologicamente e incominciano a cacciare soldi 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 per risolvere questo problema perché se no crolla l'economia mondiale cacciano soldi noi creiamo il vaccino e con questo vaccino e con quello che mettiamo all'interno del vaccino controlliamo le menti delle persone ma perché si parla di controllo mentale perché david haic parla di controllo mentale perché tanti scienziati a livello mondiale parlano del controllo mentale lo dico io e vabbè lo dici te è un caso lo dice david haic lo dice corrato malanga lo dicono tantissime altre persone importanti lo diceva l'onorato stefano de fecce mirtilo ma è possibile che tutti questi ricercatori scienziati esperti di determinate cose dicono tutte le stesse cose tutti malatitemente e tutti che praticamente dicono che le tecnologie e i soldi che stanno spendendo che sono centinaia di miliardi di euro o miliardi di dollari in tutto il mondo e che servono per la rete della trasmissione dati attraverso le frequenze cerebrali delle tecnologie harp delle tecnologie satellitari delle tecnologie radioelettriche che servono per creare patologie all'interno del nostro cervello dipendenze una volta che loro creeranno la tecnologia perfetta e la rimodulazione delle frequenze cerebrali una volta che hanno la mappatura completa delle nostre frequenze cerebrali e che sanno perfettamente come queste frequenze possono creare determinati tipi di patologie dopo non servirà manco più nessun tipo di alta tecnologia sparano in un'area geografica attraverso la corrente elettrica attraverso i ponti radio una patologia e tutti staranno male c'erano tutti mal di testa tutti staranno male avranno tutti dei gravi disturbi tutti staranno male e non cominceranno più a vedere bene oppure bloccheranno determinate frequenze e morirà la gente ad infarto o si addormenteranno le persone in macchina sulle strade o addirittura incominceranno a impazzire i padri le madri i figli si incominceranno a buttare di sotto si incominceranno a ammazzare tutti tra di loro e questo è il loro scopo il controllo totale della popolazione in modo che la popolazione poi verrà schiavizzata ci saranno gli ultraricchi e i poveri questo è quello che loro vogliono il coronavirus che cosa sta succedendo con questo coronavirus le persone anziane che prendono la pensione stanno tutti morendo ma guarda che strano più persone anziane più pensionati muoiono e meno pensioni escono fuori dalle tasche dello Stato sembra una una trama del film del loro ma purtroppo io vedo questo adesso che stanno morendo un sacco di persone anziane che prendono vari tipi di pensioni e nessuno dice ma no sarà un caso io vi dico che il coronavirus è un'arma chimica batteriologica quando vi dicono no non è vero non ci mettiamo le mascherine io vi dico che in questi giorni sto camminando per strada per Roma e sono andato in vari posti a parlare con varie persone persone che non credono al coronavirus io ho detto ma che avete riscontrato che è successo qualcosa in questi giorni dice ah sì ti devo dire una cosa è morto quello del coronavirus la mamma di quello l'hanno ricoverata quell'altra signora intubata all'ospedale quell'altra così ma come avete detto che era una semplice influenza che con la settimana finiva sai che mi ha detto alcune persone mi ha detto ce l'avevi ragione te questa è un'arma questa è proprio un'arma batteriologica che serve proprio per decimare le persone anziane così meno persone anziane ci sono e meno pensioni fanno uscire fuori molte persone che hanno gravissime patologie fisiche incappano ovviamente nel nel virus del coronavirus ma quelle sono persone che prendono la pensione d'invalidità perché ci hanno patologie loro e fatalità pure loro muoiono e fatalità la pensione viene errorata sempre dallo Stato saranno coincidenze non lo so saranno mie idee non lo so però fate voi vedete voi in questi giorni se ho ragione oppure torto io per adesso vi saluto cari amici preparerò a presto il anche il video montaggio di David Icke che parla proprio del controllo mentale delle radiofrequenze e lo pubblico sui vari miei canali speriamo che non ci bloccano attraverso il copyright o ci censurano quello che io sto praticamente montando perché poi lo posterò su tutti quanti i canali possibili e immaginabili e vi dico solamente una cosa io ho messo la faccia io vado in piazza sono stato in Rai intervistato in Rai intervistato su vari canali io sono stato sempre presente in vari luoghi e posti quando faccio le conferenze io metto la faccia metto tutto quello che serve per aiutare le vittime e non ho chiesto mai soldi ho chiesto solamente di aiutare con delle donazioni volontarie per acquistare determinate attrezzature determinate attrezzature tecniche scientifiche che servono per fare determinati test alcune vittime mi hanno detto non ho i soldi non ho i soldi non ho i soldi non ho i soldi e io ho detto va bene non hai i soldi non c'è problema adesso purtroppo siccome abbiamo scoperto che alcune vittime sono degli approfittatori e in realtà alcune di queste manco sono vittime vengono solo a rubare quello che noi facciamo abbiamo purtroppo deciso che un'offerta l'offerta volontaria deve essere fatta per forza ma non per forza perché io ho impongo di fare l'offerta volontaria se sei una reale vittima e vuoi aiutare le persone non hai problemi a venire in un evento e fare una donazione di beneficenza se te vieni all'evento senza fare niente che cosa ci vieni a fare l'evento stai a casa e poi te lo vedi tramite youtube la la diretta dell'evento ma se invece vuoi aiutare veramente vieni all'evento e dici faccio questa donazione non credo che morirete se donate che ne so 10 euro non credo che morite insomma non credo che morite se donate 20 euro 30 euro cioè non è possibile l'evento è fra tre mesi non avete la possibilità di mettere 50 centesimi da parte e creare un'offerta ci sono state persone che a me mi hanno detto che non avevano i soldi io sono andato gratis a casa io ho fatto l'analisi ho fatto tutto qua poi hanno chiamato gli investigatori privati che gli hanno chiesto 4.000 5.000 euro 5.000 euro per il loro intervento e che gli hanno subito dati i soldi a me manco un centesimo perché ci sono andato gratis a casa gli altri una barca dei soldi quindi ho capito come funziona che le vittime fanno credere che non hanno soldi per farsi fare delle cose gratuitamente ma quando chi dici guarda che non è come dici te è come ti dico io loro ah te non ci capisci niente io ho capito cose che te non hai capito adesso chiamo l'investigatore privato l'investigatore mi risolve il problema l'investigatore cosa fa quando capisce che la signora è una cucucucucu eh bisogna chiamare dei tecnici per fare delle analisi ambientali ah eh sì 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 chiamiamoli chiamiamoli sì 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 il tecnico quanto costa eh non lo so 200 euro l'ora ma qui deve stare una settimana il tecnico per fare queste analisi e questi abboccano e questo e le persone vengono fregate strafregate da questi da questi famigerati guru che gli dicono che gli risolvono i problemi ma in realtà i problemi non li risolvono come c'è una persona che dice che fa l'ipnosi regresse tramite eh youtube e si fa pagare 280 euro più 65 euro se ci sono vari supporti che gli devono stare vicino a queste vittime che fanno questa anomala ipnosi regressa e gli chiede 360 euro per stare mezz'ora su skype io non chiedo niente sono stato criticato stra criticato stra criticato per chi lavori chi è che ti paga perché te tieni questi canali aperti e chi viene pagato non gli hanno mai detto niente nessuno ma questa è una cosa veramente strana com'è che il Veneto gli hanno regalato case su case gli hanno aperto determinati uffici apre in continuazione varie associazioni ma ci vogliono i soldi per fare tutto questo io non riesco ad aprire l'associazione mia a Roma perché non ho i soldi per poterla per poterla aprire e questi aprono associazioni trovano uffici trovano fondi a destra e sinistra quando vieni subvenzionato dalla massoneria deviata quando vieni subvenzionato da anomali illuminati di mezzi satanisti eccetera 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 e devono fare esperimenti rituali per la loro magari promozione o per metterli nell'elite dell'intelligence deviata nazionale e fargli vedere che loro possono fare come vogliono con le altre tecnologie con queste armi di controllo e di manipolazione mentale è facile avere i soldi a destra e sinistra io vengo attaccato e torturato mi fanno dormire tre ore a notte mi stanno creando dei danni da tutte le parti possibili e immaginabili mi hanno fatto buttare fuori da casa mi hanno fatto fare due processi di occupazione abusiva di uno stesso identico appartamento di uno stesso identico reato tutte e due le volte assolto con la soluzione piena com'è possibile eh io devo ringraziare alcuni miei parenti che mi stanno dando una mano per andare avanti a gestire la mia vita perché non è facile gestire persone che quando gli spieghi come funziona il sistema il giorno dopo vanno e cominciano a fare i pazzi sui balconi incominciano a tirare le bottiglie di sotto incominciano ad urlare ai vicini di casa incominciano a fare i macelli in mezzo alle strade se fermano in mezzo alla strada escono fuori dalla macchina incominciano a urlare a tutte le persone che gli stanno vicino che sono tutti stalker io gli ho detto non lo fate queste cose perché vi prendono per pazzi e per malati di mente questo è uno dei primi sistemi di strategia di controllo e manipolazione che vi creano farvi credere che tutti vi attaccano che tutti ce l'hanno con voi che siete seguiti da tutti che avete tutti i microchip in testa non viene nessuno a controllarvi nessuno vi mette i microchip in testa nessuno entra nella vostra stanza delle notte siete voi con la manipolazione narcoletica attraverso stati di ipnosi con la perdita della memoria temporanea perché voi dormite vi fanno addormentare vi fanno spostare questa carta da qui e la fanno mettere qui voi vi risvegliate e dite oddio la carta che l'ha presa oddio sono tradi ma stanno a rubare la carta mi hanno rubato la carta poi vi girate e com'è la carta sta qua vedi ce l'hanno un essa loro no sei stato te che l'hai spostata da qua e l'hai messa da qua tanto semplice ma non te lo ricordi perché stavi dormendo quando è successo l'avvenimento quindi voi amici dovete capire come funziona il sistema dovete capire che non vi dovete fare prendere in giro solo che non dico che tutti i giorni e tutte le volte dovete fare determinate donazioni o dovete aiutare però quanti anni sono che vi ho detto dobbiamo comprare la telecamera termica e la telecamera termica non è stata comprata quanti anni sono che vi dico dobbiamo comprare una gabbia di faradai portatile e un analizzatore di spettro portatile quanti anni sono che lo dico non venite alle conferenze non aiutate non collaborate se io ho queste attrezzature e queste strumentazioni quando voi venite alle conferenze io posso fare le analisi alle persone che vengono alla conferenza oppure fare delle riunioni private le persone vengono e fanno le analisi all'interno della gabbia di farad all'interno con l'analizzatore di spettro con la telecamera termica ma se io non ho queste attrezzature non possiamo fare questa analisi non possiamo fare dei test non possiamo cercare di studiare e creare e trovare delle prove schiaccianti per poter un indomani chiedere un risarcimento danni di quello che noi stiamo subendo ma se voi non fate le denunce neanche una denuncia cautelativa non la fate ma un indomani quando vediamo un giudice magistrato o una persona importante che sta magari nelle procure vi dice senta lei è una vittima del controllo mentale sì da quanti anni è che è vittima del controllo mentale da 50 anni ah da 50 anni quante denunce ha fatto dove stanno le denunce che lei è da 50 anni vittima del controllo mentale ah non l'ho fatta e allora come parte un risarcimento un risarcimento danni come parte invece io sono stato attaccato il 10 febbraio del 2001 dopo due mesi la prima denuncia e ne faccio una denuncia ogni due anni circa adesso devo portare la nuova denuncia nel 2020 perché se un indomani il magistrato viene da me mi dice ma lei ha denunciato ma come ho tartassato le denunce da tutte le parti ho fatto video ho fatto conferenze ho fatto di tutto e di più non possono dire no non è vero è carta canta quelli sono fogli che praticamente fogli legali fogli ufficiali voi volete nascondere tanto io se mi sposto a quell'appartamento a quell'altro nessuno sa niente nessuno mi vede nessuno mi trova e qua e là e invece dopo due tre anni ritornate un'altra volta da me ma ancora mi attaccano che stanno facendo questo che stanno facendo quest'altro io vi dico solamente una cosa se qualcuno vi contatta e vi dice che vi dovete scrivere in anomale associazioni e dovete dare soldi ovviamente associazioni sconosciute oppure vi dicono di di iscrivervi per una denuncia collettiva anomala e donare dei soldi per fare questa denuncia collettiva voi gli dite mandatemi lo statuto di questa associazione fatemi vedere che cosa avete fatto voi per aiutare le vittime e poi fatevi mandare ovviamente la denuncia collettiva che voi dovreste fare e dovreste scrivere per vedere di che cosa si tratta e far confrontare e far vedere a un legale magari il vostro legale guarda questi mi stanno contattando e mi dicono che devo fare queste denunce e così 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 e mi stanno chiedendo soldi perché molti estorsori ce ne stanno tanti che si inventano bufale che aiutano le vittime al controllo mentale ma in realtà non le aiutano e vendono i vostri nominativi ai stalker ai migliori offerenti stalker militari parlo stalker del sistema deviato e quindi fate molta attenzione non dovete incappare in anomali gruppi che vi inseriscono all'interno dei gruppi e poi dicono che siete stati voi che vi siete inseriti dentro quei gruppi come hanno fatto a me delle persone che io addirittura ho bloccato totalmente su tutti i miei canali e fatalità dopo che ho bloccato alcune persone a me mi hanno cancellato gli account di facebook ma guardate che strano 15.000 persone che mi seguivano tutti i giorni fatalità tutti gli account bloccati e dopo hanno addirittura detto che io mi sono andato a scrivere nei loro gruppi perché io seguivo le loro teorie ma quale loro teorie quale loro teorie c'è stata gente disperata che mi ha detto cerca di aiutare queste persone che sono uscite tutte fuori da testa sono tutti malattie demente credono tutti che sono pazzi che sono bipolari che hanno la schizofrenia vagli aiutare fagli capire che cosa che cosa stanno subendo e allora io gli ho detto a queste persone fammi ti do dei video mettili nei gruppi per vedere che cosa come possono interagire i miei video con loro non che io entro nei gruppi di queste persone e io seguo le loro idee che cosa loro fanno io ho 15 gruppi su facebook ho 10 pagine su facebook sono amministratore di tutta questa non mi interessa di entrare in gruppi di altre persone al limite posso entrare in gruppi mondiali di target individuals ma mondiali che sono reali di associazioni reali per i diritti umani a livello mondiale non gruppi di 4 persone che non si capisce se sono manipolati se non sono manipolati se sono malattie di mente loro veramente o non sono malattie di mente loro perché dicono talmente tante bagianate che poi molte persone mi dicono stavo nel gruppo di là stanno dicendo una marea di bagianate tutti i giorni parlano solo su whatsapp parlano solo su messaggio e basta non fanno niente non fanno nient'altro ma scusa che i messaggini di whatsapp voi volete salvare il mondo che i messaggini di whatsapp vi volete proteggere d'attacchi con armi satellitari ecco quattro messaggini whatsapp quindi cari amici io vi dico solamente una cosa se mi volete scrivere in privato vittime del controllo neurale chiocciolagmail.com se invece mi volete volete chiedermi l'amicizia su il mio canale pubblico di facebook Emiliano Babilonia Italia voglio ringrazio tutte le persone che stanno seguendo il mio blog satelliti spia blogspot.com oltre un milione e duecentocinquanta mila visualizzazioni a livello mondiale e mi contattano tutte le parti del mondo sul mio secondo blog vittime del controllo neurale satellitare blogspot.com oltre quattrocento e passa mila persone che seguono i miei canali poi c'è l'altro ricercatore di fenomeni spiegabili nel mondo non so quanti sono ducentomila ho perso praticamente la connessione di tutte queste persone che mi scrivono che mi contattano che mi mandano email che fanno che molte persone mi mandano complimenti in continuazione lei mi ha salvato la vita lei è l'unico che ha capito che sta spiegando come in realtà vengono effettuate queste cose io addirittura una ragazza mi ha contattato mi ha detto io ho fatto vedere i miei familiari che non ero pazza non ero malata di mente i familiari hanno cominciato a seguire le interviste testimonianze che sono cose importanti ma quando ti senti dire da persone che hai aiutato gratuitamente da persone che gli sei stato vicino da persone che mi sono levato io il tempo prezioso per il tempo prezioso per riuscire a creare delle situazioni per aiutare moralmente aiutare con i gruppi di ascolto e ho fatto molte interviste ho fatto molti incontri radio web o incontri caffè radio tv web l'ho fatti questi incontri per far stare le persone vicino per farle parlare invece a loro gli interessava solo che io dovevo dire pubblicamente dei loro delle loro deduzioni e dovevo dire pubblicamente quella persona si era vero che veniva attaccata dai zingari oppure era vero che quella persona viene attaccata dal generale che sta all'ultimo piano del suo palazzo o mio dovevo dire si creano dei filmati porno e poi li pubblicano e li fanno vedere a tutti i vicini di casa ma posso dire una cosa del genere ma non avete capito che la manipolazione mentale è questo farvi credere cose surreali in modo che voi andare a dire in giro queste cose surreali per essere pazzi e malati quindi cari amici non seguite determinati gruppi non seguite determinate persone che vi dicono aperto l'associazione vi aiuteremo vi salveremo di qua di là non credete a queste persone perché questi se sbagliano qualche cosa nella denuncia invece di prendere l'isarcimento voi venite presi e rinchiusi in TSO tutti o vi faranno addirittura la felizia psichiatrica e a molti di voi c'è il rischio che addirittura vi allontanano dai posti di lavoro per incapacità di intendere o di volere addirittura una persona hanno chiamato i familiari l'hanno fatti andare all'interno di un posto di una struttura sanitaria sono arrivati i familiari e hanno parlato praticamente ai familiari che hanno detto la nostra persona gli serve un tutore e quelli hanno detto perché un tutore dice è venuto a qui in stato di delirio ha detto cose surreali ha detto cose non esistono né in cielo né in terra dice ma come è possibile questa cosa i familiari si sono dovuti praticamente hanno dovuto praticamente a sentire quello che gli stavano dicendo queste persone e hanno fatto fare a questa persona una perizia psichiatrica perché era entrata in questi posti a dire cose veramente surreali gli volevano levare pure la patente addirittura poi hanno spiegato che quella persona ha avuto dei problemi che era un po' nervosa che ha avuto un esaurimento nervoso e qua e là e meno male che i dottori hanno detto va bene allora fate fare un trattamento sanitario una cura sanitaria una cura con dei farmaci per tranquillizzarla per farla rientrare in sé perché da come si è presentata all'interno di questi posti loro hanno detto si è presentata per denunciare un fatto criminale questa si è presentata per dire delle cose da malattamente da pazza o da persone schizofreniche giustamente quelli per tutelare la persona che entra in stato di deliria all'interno del posto che entra in stato di deliria all'interno di una caserma o che entra in stato di deliria all'interno di una struttura pubblica una struttura militare e quelli che hanno fatto hanno chiamato i parenti per avvisare che cosa stava succedendo e hanno immediatamente avvisato i dottori di quello che stava accadendo e queste persone sono state marchiate con il marchio della bestia persone malate di mente io invece con la mia denuncia collettiva che voglio fare voglio che ci sia un timbro eroi di stato eroi di stato che è ben differente tra malati di mente ed eroi di stato io quando dico che faccio qualcosa la faccio quando dico acquisto questa cosa l'acquisto e poi la porto alle conferenze se io dico che devo acquistare una telecamera termica e farò una raccolta fondi per acquistare la telecamera termica farò la raccolta fondi per acquistare la telecamera termica e la telecamera termica poi la prendo fisicamente faccio i video faccio i test faccio le analisi faccio l'analisi a casa delle vittime e poi porto la telecamera termica all'interno delle conferenze all'interno delle nostre riunioni all'interno dei nostri incontri per farvi vedere che la telecamera termica è stata acquistata ma non dico una telecamera termica da 100 euro cinese o una telecamera termica che non vale niente una telecamera termica di un certo valore dobbiamo prendere perché io devo vedere la sagoma della persona e devo fare la doppia registrazione sia la registrazione termica che la registrazione normale dello spettro del corpo della persona che si deve vedere perché io devo vedere le varie frequenze di contrasto perché acquistare una telecamera vai su un sito di questi qua e l'acquisti a 100 euro e poi quando vai a fare l'immagine ma che si vede se vede solo una sagoma colorata questa non ci serve a niente non dobbiamo vedere l'attacco la frequenza il punto che si subiscata nel corpo l'attacco nei polmoni nel cervello nelle orecchie nei condotti uditivi con le frequenze a infrarossi le frequenze a microonde e servono delle strumentazioni professionali le persone non l'hanno capito compro il jammer il jammer blocca il microchip ma chi ti ha detto che c'è il microchip in testa il jammer blocca determinate frequenze ma non bloccano le frequenze neurali il jammer blocca delle radio frequenze corrispondenti a microspie che non c'entrano niente con le frequenze radio dei cellulari con le frequenze radio della corrente elettrica con le frequenze radio delle armi ad energia diretta ad onda convogliata non c'entrano niente con questo sono modulazioni di frequenza totalmente errate o differenti da quello che devono bloccare e le persone purtroppo essendo ignoranti ignorano la reale tecnologia credono alle baggianate delle persone che vogliono fare i guru del web dicendo una marea di buffonate con il microchip in testa so chi sono i miei vicini di casa i zingari sotto casa a destra entrano i cani per farmi abbagliare quando entro dentro casa entrano dentro casa tutti i giorni per muovermi le cose non è così è la manipolazione mentale che vi fa credere tutto questo iscrivetevi sul mio canale di youtube angeli custodi mk ultra italia e chiedetemi l'amicizia su emiliano babilonia italia io quando faccio analisi ricerche ricercatore perché io sono un tecnico io ho scritto ricercatore potrà essere vittima del controllo mentale dal 10 febbraio del 2001 e dopo due mesi ho cominciato a portare le prime denunce perché questo che voi dovete fare incominciare a denunciare che venite spiati con armi a tecnologia ad onda convogliata o armi ad energia diretta o sistemi di spionaggio tecnologie di spionaggio se vi chiederanno ci porti le prove che lei viene spiata con queste tecnologie e io devo portare le prove e i reparti operativi che cosa ci stanno a fare i reparti investigativi che cosa ci stanno a fare sono loro che devono portare le prove se io faccio un reato arrivano tutti i reparti operativi e i reparti investigativi ma quando i reati lo fanno i servizi segreti deviati la massoneria deviata sono i nuclei operativi che devono andare a trovare le prove di questi attacchi e manipolazioni che noi subiamo tanto basta un radar telescopio un radio telescopio che punta il cielo dove sta il satellite e loro vedono il raggio che ci spara addosso al corpo oppure telecamere multispettrali militari che noi non possiamo acquistare perché costano dai 25 mila euro in su e un radar telescopio costa dai 100 150 mila euro in su infatti l'onerà i servizi segreti francesi il gruppo aerospaziale della Francia militare hanno una tecnologia che costa milioni di euro e serve proprio per individuare i serelli di spia e individuare che cosa fanno questi serelli di spia addosso alle persone o che cosa trasmettono o che tipo di tecnologie hanno sopra relative al controllo lo spionaggio o la trasmissione dati che magari è illegale o non viene dichiarata e questi satelliti stanno sopra aree geografiche che non hanno non hanno avuto autorizzazione non hanno avuto i permessi di stare in queste aree in queste aree geografiche o al di sopra di determinati posti relativi ai sistemi di sicurezza di spionaggio o dei sistemi del controspionaggio che vengono utilizzati in quel luogo su quella regione su quella nazione perché se quella nazione ti dice te non puoi entrare con un satellite sulla mia area sulla mia area geografica te non puoi entrare perché se entri con un satellite sulla mia area geografica vuol dire che è spionaggio mi vuoi spiare con queste tecnologie allora loro hanno creato un sistema per controllare e vedere che cosa fanno questi satelliti in più i servizi segreti mondiali stanno creando l'interforce spaziale l'interforce che deve prevedere eventuali attacchi con armi satellitari e deve prevedere eventuali attacchi con hacker governativi che operano con tecnologie di controllo e di spionaggio sulla popolazione questa interforce spaziale che le stanno che le stanno creando tutte le più grosse potenze mondiali attraverso questi sistemi militari stanno creando proprio questi reparti specializzati in attacchi e spionaggio con armi satellitari questo lo dicevo io nel 2001 non mi credeva nessuno no non è così è quello è vicino è quell'altro è quell'altro adesso tutti parlano di quello che dico io che dicevo io nel 2001 dicevo le denunce scritte è tutto scritto dettagliato di quello che io denunciavo nessuno mi credeva adesso tutti stanno incominciando a unirsi a me David Aik che dice a livello mondiale in una conferenza a livello mondiale in televisione a livello mondiale parla di radiofrequenze per controllo della mente a distanza parla di frequenze sparate nella corrente elettrica per manipolare le frequenze celebrali ma come quando lo dicevo io ero un malato demente un pazzo schizofrenico un visionario lo dice David Aik tutto a posto lo dice Corrado Malanga tutto a posto l'ha detto l'onorato Stefano De Ferci e Mirtillo che ho avuto l'onore di conoscere di fare delle analisi con lui ci prendevano tutti per pazzi e per malattie in mente ma in realtà non è così noi io ho capito come funziona la reale tecnologia di controllo di manipolazione della mente a distanza e noi possiamo in un certo senso convivere con questa tecnologia ma dobbiamo essere intelligents intelligenti se siamo la stupidigents stupidi mentalmente crediamo alle stupidaggini ma se invece noi siamo l'intelligence l'evoluzione della mente incominciamo a credere a cose più evolute più avanzate più tecnologiche e incominciamo a convivere con questo sistema di controllo di spionaggio è questo che noi dobbiamo fare unirci in gruppi di intelligenze superiori e con la nostra intelligenza entrare in un mondo a realtà virtuale e cercare di diventare un personaggio di questo mondo a realtà virtuale non entrare all'interno di una gabbia neurale che ci fa diventare schiavi monarch schiavi del sistema MK Ultra e diventiamo prigionieri prigionieri della nostra stessa incapacità cerebrale noi ci dobbiamo evolvere e ci stiamo evolvendo ma molti di voi si evolvono in modo totalmente errato ma c'è la luce e c'è l'oscurità molti mi sto evolvendo e vanno nell'oscurità molti mi sto evolvendo vanno nella luce e incominciano a capire come funziona quello che accade quello che succede nell'oscurità paura orrore tutti mi guardano tutti mi vedono tutti mi seguono quello diventa il baratro il baratro della vostra mente della vostra esistenza del vostro futuro incominciate a prendere coscienza di quello che sta accadendo al mondo stanno decimando la popolazione mondiale e ancora mi dite che sono i vicini da casa che sentite ancora mi dite che era una semplice influenza non era semplice influenza lì gli illuminati la massoneria mondiale i servizi segreti sopra estituzionali si sono messi a tavolino e hanno detto come possiamo rubare miliardi e miliardi d'euro a tutto il mondo come possiamo creiamo la pandemia mondiale la pandemia mondiale butterà giù l'economia del mondo e ci dovranno dare tutto quello che noi vogliamo per sconfiggere la pandemia anche che noi abbiamo già i vaccini e già sappiamo perfettamente che questo vaccino risolverà tutti i problemi di questo di questo virus diciamo virus governativo da me definito però noi prima facciamo ammalare tutti facciamo murire una marea di gente e al momento opportuno quando quelli incominceranno ad avere terrore di questo virus incominceranno a dare tutti i soldi possibili immaginabili che noi chiediamo uscirà fuori il vaccino ecco il vaccino quanto lo paghiamo questo vaccino non lo diciamo quanto costerà questo vaccino non lo diciamo e lo Stato spenderà 1000 euro 2000 euro 3000 euro 4000 euro 5000 euro a vaccino e deve comprare quanti 5 milioni 7 milioni 70 milioni 80 milioni quanto ne ha comprati i vaccini lo Stato italiano eh e quindi incassano soldi e tutti staranno zitti perché il controllo mentale li fa stare zitti li rende schiavi tutti a guinzaglio già ci hanno messo la museruola adesso ci stanno a mettere pure il guinzaglio e allora noi dobbiamo interagire vi dico un'altra cosa non sottovalutate il coronavirus prendete le precauzioni le precauzioni necessarie non vi fate impavocchiare no no sto in mezzo alla piazza sto con tutti i guanti io mi levo la mascherina faccio come come vi pare non vi fate impavocchiare perché questa non è una semplice influenza questa è creata il laboratorio da esperti scienziati che hanno studiato il dna umano hanno studiato le difese immunitarie del nostro corpo e sanno perfettamente come attaccare quale fasce attaccare quale persona attaccare e quale persone con patologie attaccare perché questi sono attacchi mirati a livello mondiale con armi chimiche e batteriologiche un saluto a tutti amici al ricercatore Emiliano Bambinano un saluto